Che dite? Arriviamo a mille like per questa puntata stra figa e stra bella in cui si fanno cose belle utilizzando l'exchanger Perché, ehi, è l'exchanger, fa tante cose carine oltre a scambiare i blocchi Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della nostra serie dell'Aurissecraft Allora, sta facendo un bel po' di roba qui, in realtà si è fermato e ho fatto una cosa abbastanza interessante Ovvero ho fatto qui un output, vedete, che fa tutto questo giro, arriva qui dentro E l'output mi crea corrente, questo perché voglio della corrente qui dentro, mi sembra ovvia come cosa Quindi corrente, 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 che mi servirà per tante cose, ok? Quindi va bene Qui, non so perché non è riuscita a fare il giro, in realtà è andata a fare il giro però poi non si è ricaricato Probabilmente perché ci mette un po', più che altro non c'è un modo di fare holding per esempio Cioè nel senso, ehi, dovresti, cioè vediamo un attimo, se io adesso prendo questa, la metto qui dentro In automatico, si ricarica? Si, ok, si ricarica e poi passa in automatico qui dentro, giusto? Questo funzionava come impianto, il problema è che, boh, ogni tanto se ne va a fatti i suoi Comunque, vabbè, lo vedremo Allora, ho messo una nuova mod nel mio mod spec, che comunque uscirà presto in aggiornamento, eh, tranquilli che esce Ho messo la plant grow accelerator, ok? Che già conoscete sicuramente, che abbiamo visto in varie parti Però ho cambiato il suo crafting, infatti adesso si fa con l'ossidiana, con quattro diamanti e un seed Quella base era facilissima, ho detto, eh, non mi piace, non mi piace Infatti ho fatto questa cosa, questa è abbastanza, non dico cheating, ma tanto veloce, tanto potente Quindi, si, va potenziata e migliorata, infatti c'ho messo questa roba, vedete, è un po' complicato già adesso Quindi, già usare l'ossidiana e le diamanti richiede un bel po' di roba Potevo farlo ancora più difficile, però mi sono tenuto fermo, perché ho detto, vabbè, molta gente non nerda come faccio io Quindi, ok, ci sta Allora, per recuperare l'ossidiana ho un metodo abbastanza easy e facile A più di tutto, lasciamo un attimo questa roba qui dentro, che ho messo a cuocere Che devo mettere a cuocere, perché qui ho del ferro, si, un po' di roba ancora Però mi serve il ferro Dicevo, un metodo più semplice per recuperare l'ossidiana è questo qua Ovvero, utilizzare il nostro piccolo exchanger, che ora vi spiegherò come funziona Visto, questa cosa mi ha detto, una di voi ve l'ha detto Quindi, grazie mille per questa, per questa cosa, perché in effetti non ci avevo pensato 64, noi facciamo 16, facciamo 64, perfetto Prendiamo uno stack di diamanti, ok E, ah, se sto lagando un pochetto, perché in realtà sto scaricando una cosa su Steam Quindi, non potevo farci niente, devo forza aspettare E, ok, dicevo, prendiamo un po' di ossidiana, prendiamo un po' di, eh Bah, cobblestone, sinceramente Ok E, ci facciamo così, facciamo la cobblestone qua Ottimo Prendiamo il nostro coso, gli diciamo, eh, guarda, io voglio che tu trasformi tutto in cobblestone Però, in un certo modo, nel senso, eh, per un po' di cobblestone potremmo anche prendere Ok, due stack credo bastino, però magari possiamo prendere anche di più Possiamo prendere E, mi sembra un secchio di acqua In realtà abbiamo un secchio di acqua già pronto Però ne facciamo un altro in più, perché tanto ci sta Andiamo qui nello scavo, ok E ricordate già che abbiamo un posticino dove abbiamo trovato un po' di lava, un po' di ossidiana Tutto normale, tutto a posto Cosa facciamo ragazzi miei? Andiamo un attimo qui, adesso Faccio vedere questo lato E, facciamo in questo modo Prendiamo questo qua Sappiamo che c'è un, eh, possiamo fare lo scambio tra cobblestone e ossidiana Facciamo così Bam E, tada, ragazzi Ha preso l'ossidiana e l'ha trasformata in cobblestone È come se l'avessi nominata Ma ci mettiamo, non dico, meno Ma proprio, è instant È super instant Questa cosa me l'ha consigliato uno di voi Infatti non ci avevo pensato questa cosa Ed è una figata, davvero È tanto utile come cosa, un sacco E io non avevo per niente preso in considerazione l'idea di fare un, eh, un metodo del genere Perché, perché buono, non lo so, diciamo Non mi era passato per niente di mente Quindi, grazie mille per questa idea, ragazzi È fantastica Ed è molto, molto utile Allora, per esempio Spendiamo un po' di ossidiana Faccio vedere Spendiamo questa roba qua, ok Bam Prima di tutto, facciamo così Tan Guardate Cambia tutto Abbiamo 32 ossidiana In quanto? Due secondi, proprio Questa l'ha ancora laggando Non so perché Probabilmente ho qualche programma aperto in, eh Sì, ho qualche programma aperto in, eh Background Non me lo so ricordato di togliere Facciamo di nuovo così Bam Uno stack Ok È un po', un po' cattiva come cosa Nel senso che tanto citto Non è cittosa È giusta, eh Perché è uno scambio equivalente Utilizzando l'energia E utilizzando della cobblestone E Tadana, ragazzi Siamo fatti Ossidiana a manetta Guardate Abbiamo quasi due stack di ossidiana In quanto tempo? Due secondi, proprio Cioè, proprio Ci abbiamo messo Pochissimo Pochissimo davvero Facciamo gli ultimi qua Che adesso mi siamo Giusto un po' di ossidiana in più Perfetto E dovrei avere tipo Due stack e mezzo Perfetto Ok È tempo di tornare a casa Perfetto Ho fatto richiesta di Giusto un po' di seed E Ok Dovremmo averne 15 È arrivato il sedicesimo Perfetto E abbiamo quindi sta roba Abbiamo l'ossidiana In questo modo In realtà Il crafting dovrebbe essere giusto In qualsiasi posto Lo mettiamo Nel senso Ehi Quali sono i crafting Gli oggetti Ho messo la possibilità Di poterlo craftare In tutti i modi che volete Ragazzi Basta tipo posizionare In qualsiasi metodo Questi diamanti E questa ossidiana E tutto si crafta Quindi BAM Plant grow Accelerator Ne abbiamo 16 E va bene Già Già una buona cosa Non sono troppi Perché in realtà Il crafting normale Ne dava tipo 4 Poi quello potenziato Un po' più difficile Ne dava 3 E 2 Quello finale Ma quello finale Era difficile Da avere un sacco E non era abbastanza utile Mentre questo Devo dire che Mi piace di più Quindi ci sta Allora potremmo fare Una cosa molto bella Se vogliamo far crescere Stanto un alberello Cosa probabile In effetti Possiamo puntare Per questa cosa Ok Tipo facciamo In questo modo Facciamo Eh Boh Fin dove arriviamo Qua direi Va bene Facciamo così Bam 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 E scendiamo ancora giù Fino tipo A un buon livello Dove possiamo posizionarci Tutti questi blocchi E dovremmo tipo In qualche modo Far ricrescere Molto velocemente Un solo sapling E noi Già andrebbe bene Sinceramente Io direi Facciamo 16 Per ogni posto Così ci leviamo Il fastidio E siamo a posto Ottimo E io Voglio mettergli Da coppa la coppia Sono qui Che tanto Poco importa E adesso Questo sapling Dovrebbe crescere Un po' più velocemente Del solito Anche se Poco ci credo Perché in realtà Oh è cresciuto velocemente Scherzavo Scherzavo E' veloce Ok E' cresciuto Adesso dovrebbe rompere tutto Tranquillamente Qui dentro Con la solita Nochalance E dovrebbe Anche in automatico Fare tanta Tanta roba Verò sta funzionando Si sta funzionando Perfetto Vediamo un po' se Ricresce velocemente Già Possiamo queste torce Perché in realtà La luce serve Si però in un certo punto Quindi va bene Vediamo un po' Dovrebbe ricrescere più velocemente Oh regà Guardate Con 16 Cresce così Instant Che siamo a posto Quindi va bene Però adesso ci tocca Fare un'altra cosetta Molto importante Per fare questa cosa Mi serve Del Cioè mi serve un hopper Speciale Che vi farò vedere E anche Che cosa Che mi servirebbe In realtà Credo Sì un hopper speciale E anche un drum Perché così facciamo Qualcose bellissime Guarda quanto veloce È straveloce Ragazzi A fare A fare Sti sapling Vediamo un po' Dovrebbe pezzare un altro Di nuovo Vediamo un po' Piazza 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 Vai Bam È troppo bello È troppo bello Mi sto avvicinando Molto velocemente Verso quell'enderman Che mi ha visto E sei già incazzato Verso di me Però è tranquilli ragazzi Che io lo ammazzo Adesso vieni qua Vieni affrontami Da uomo a enderman Vai Vieni qua Vieni 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 Aia Mi fa un po' male in realtà Ehi Ehi Da dietro A stronzo Dai Dai vieni Vieni che ti attacco Vieni qua Vieni qua Vieni qua Attaccami Attaccami stronzo Ma regà Su enderman è un po' Una merda però Dove essere sincero Magari è un po' Stupido che si butta Anche sopra Ai cactus Oh E dai vuoi morire Non devo guardarlo E maledizione Per uccidere un enderman Ci mettono un'eternità Smettete di sparare Le frecce pure addosso E pure è scemo Quello Già è scemo di suo Poi risparate pure le frecce Siete proprio stronzi Poi Maledizione Non riesco a uccidere un enderman Oggi 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 è una cosa tremenda Non riesco a uccidere Smettete di spararmi Che quello già non viene verso di me Poi Risparate le cose Risparate E qua Oh Perfetto Mi ha droppato quanto Oh Tre enderpals Ragazzi Quando droppiamo tre enderpals Mi piace un sacco la roba Allora Dobbiamo craftarci Che cosa Il nostro vacuum hop C'è anche il nano hop Guardate quanto è bello È piccolissimo È della logistic È il nano hop Si chiama Si fa nel soldering station Che non serve al momento Ok Allora Ci serve questa roba Ci serve In realtà dovrei prendermi Anche una mod Che fa l'omni L'omni direction hop Che è molto più carino Dell'opera normale Poi ve lo spiegherò Allora Ci serve questa roba C'è l'ossidiana E un iovender E in realtà Un'opera normale Ora L'opera normale Dovrei averlo Perché Non ce l'ho Ok Dovrei avere una Una chest Porca vacca Non ho niente Facciamo così Forse ce l'ho dall'altra parte Facciamo di tutto In questo modo Prendiamoci 2 2 7 E 6 Quindi sono 4 E 7 11 Giusto E 6 Sono 17 Quindi sono 17 Pezzi di ferro Ok Bam Una Blaze rod Cioè più che altro Mi servirebbe una Blaze powder Perfetto E mi serve Quell'hopper Credo di averne uno Nell'altra chest All'altra parte Quindi andiamo a prendere Quell'altra chest Ok Prendi tutto Dammi questa Blaze Perfetto Facciamo una di questa Più questa Bam Blaze Ottimo Poi andiamo un attimo Nella ferrovia E qui dentro Eh sì Qui dentro Vabbè sì c'è un altro hopper Però Eh sì Ce l'ho Perfetto Prendiamo la crafting table Almeno possiamo anche Craftare qui Tranquillamente E poi dovrò spostare Sta roba di qui Giusto per iniziare E facciamo così Così E un hopper Perfetto Bano Abbiamo il vacuum hopper Ragazzi Molto più utile E molto più carino Vabbè sincero Poi mi serve Fare così Così E Ah giusto Prima di tutto Devo fare un paio di cosette Devo farmi Due di questi Ricordate come si facevano Sì Un calderone Normale Perfetto E Tadan Ci facciamo Un drum Il drum servirà Perché dobbiamo anche recuperare Expo Dalla nostra farm Di alberi Comunque guardate qua Prima eravamo a 12 stack Abbiamo già 14 stack qui dentro E un sacco di esperienze Che qui vola A caso Quindi vabbè Un bel problema Comunque Allora Dobbiamo rompere questo hopper Magari Aia Pezzo di merda Aspetta Ragazzi Stupiamo un attimo Questo coso Che se no mi spara Mi fa ma E No no Che stai a fa Ok Ehi ehi Allora così Devo fare un vacuum hopper qua Ottimo E Ok Giusto Perfetto Vacuum hopper fatto Vacuum hopper È un hopper normale Che recupera roba Ok Vicina a lui Nel senso che Qualsiasi roba qui Nelle vicinanze Nel giro di 9 Di blocchi 3x3 Attorno a lui La recupera Perfetto Quindi va bene La cosa particolare Che ovviamente Uno può essere posizionato Può avere tipo Posizionamenti diversi Tipo un'uscita E l'input Dove vogliamo Dobbiamo soltanto girarlo E tipo fare di qua Per esempio No ho sbagliato In realtà Dovrei posizionarlo meglio Vediamo un po' Allora Questa faccia Non mi serve Però se questa faccia È quella che ho aperto adesso Questa qua Dovrei attivare io Che questa a sinistra Perfetto Qua a sinistra Ok ragazzi Perfetto E però Devo anche fare una cosa Allora Qui ci va il blu Va bene Ma se lo facciamo All'altro lato Aspettate Devo tipo posizionarlo bene Perché se no Da problemi Devo farlo da questo lato Allora Se questo Vediamo un po' Capiamo Questo devo attivare Ok Ok E questo non ci sta Ok Da questo lato Vedete Bam Dovrebbe in automatico Eserci L'output Giusto Sì Ok C'è l'estrazione Perfetto Quindi come c'era l'altro hopper Tutto a posto Però oltre a questo Dovolo metterci anche questo qui accanto E dire al nostro hopper Che tu Oltre a recuperare La robaccia che c'è qua vicino Devi anche recuperare l'exp E l'exp che recuperi La butti qui al lato Quindi in questo modo Perfetto Quindi l'exp Finirà Dove diamine Non vediamo L'ha posizionato Sbagliato Dove trovare il punto giusto Aspettate Ok Allora se questo è da questo lato Da qua Ok da qua Giusto Perfetto Da questo lato Quindi adesso Quando noi attiveremo di nuovo questo E arriverà l'exp In automatico Entrerà qui dentro Bam Abbiamo dell'exp Finalmente liquida In questo caso Che andremo a utilizzare Molto in futuro Per poter fare una farm di mob Quindi Wow Figata pazzesca E nel frattempo qui Cioè proprio Si sta Si sta divertendo Come non mai Questo a produrre Sapling a manetta Io Fa Vabbè Io produco sapling E tu ti diverti Ok E vabbè Si diverte un sacco Dove essere sincero Sto recuperando Sapling a manetta Senza più problemi Quindi GG Non so se si può Posso anche prenderlo Prenderlo potenziato In teoria dovrebbe esserci Un potenziamento per La progressive Che aumenta la velocità Vediamo un po' se c'è C'è Questa roba non ci interessa Eccolo qua No The killer The killer to kill Audience only No Non ci interessa Sta cosa No Non ci interessa Manco questo Oh Giusto Ok Devo Metterci questa roba Dentro Ok Si crafta in questo modo Rf engine Perfetto Si fa Ah ma è una stronzata Facilissimo ragazzi Perfetto Craftiamocelo Ok Ok visto che stavamo trovando Il modo per poterlo fare Rf ragazzi L'ho trovato Perché in realtà Sono stupido Non leggo le iscrizioni Lo so Che sono un po' scemo Non dovete Dirmelo nei commenti Mi servono due casti Mi servono nove di questi E Boh ferro Tipo 4 Savano 6 Perché in realtà Si Sono 6 blocchi Perfetto Ok Craftiamo questo Engine Tranquilamente Che massimo Riceve 40.000 Rf Però così Non dovremmo avere Troppi problemi Quindi facciamo così Facciamo in questo modo E Tadan Add to the fuel slot To power machine with Rf In sostanza Funziona al stesso modo Andiamo qui a ferrovia Lo dobbiamo mettere Qui sotto ragazzi miei Diamo un attimo al secondo Ehi Vai Perfetto E Bam Ok Adesso sarà Caricato di energia Ovviamente devo metterci dentro Porca che l'ho lasciato D'altra parte Vero E Ah no Lasciati qui Veno male Perfetto Mi stavo Tipo già incazzando Per il fatto che l'ho lasciato D'altra parte i cavi Invece no Sono qua E facciamo così Perfetto Adesso dovrebbe arrivare l'energia Dovrebbe caricarsi questo E Questo qui Dovrebbe essere usato Yep Ok Così veloce che in realtà Non se ne frega niente Ci abbiamo tutta energia Tanta roba Quindi Ok Felicità assurda Comunque la velocità qui Di craft Cioè abbiamo già pieno Sto coso Cioè Guarda È già cresciuto l'altro Ma 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 cosa Sei troppo veloce Raga ma What the fuck Ok Forse ci conviene Tanto tanto Recuperare un po' di legna Sapete Quindi io direi Facciamo in questo modo Leviamo questo qua Adesso qua Ok Disattiviamolo E recuperiamo tipo Un paio di stack di legna Perché mi serviranno Per fare l'upgrade qui Del barrel Che sicuramente Serve Serve avere un sacco Allora ragazzi Facciamo così Mentre qui Recuperare un po' di legna Io vi direi Che possiamo Tranquillamente chiudere la puntata Ci vediamo presto Con una nuova puntata Della Ulissecraft Qui sta facendo davvero Cose immense E strafighe Insomma Mi piace un fracco Davvero raga Tanta roba Davvero E funziona davvero bene Quei grosso Accelerito che abbiamo fatto Quindi va bene Ci vediamo presto Con una nuova puntata Della Ulissecraft E qui Ovviamente Ogni tanto Cadono tipo Sapling E altre robacce Non ci posso fare nulla Perché in realtà O metto qualcosa Che raccolla in automatico Oppure le faccio cadere E poi in automatico Vengono buttate via Potrebbe essere un'idea In realtà E praticamente farò così Nel senso che Quando cadono per terra Dopo tre minuti Sapete che c'è Tipo il clear lag Più o meno Che butta la roba via Nel senso Ehi ciao Non mi servi più Buttata via Quindi la leverò E nel frattempo Qui devo essere sincero Mi sto davvero Un sacco divertendo Con il fatto che sta facendo Un casino Un casino davvero Di Di carbonella Più che altro Sta anche funzionando Un piccolo engine Che sta dando L'energia ha tutto Qui in realtà Proprio fotte i segali Del resto Sta facendo Le picche cose Insomma Sono solo preoccupato Per questo coso Che sinceramente Per me non funziona Tanto bene Anche perché qui Oh aspettate Ma qui c'è un problema Oh Ecco perché C'è un problema di fondo Molto interessante Che non ho notato E che è il fatto che Ehi qui L'energia non arriva Nel senso Ehi E qua arriva Cioè ok Ci sta Qui facciamo In questo modo Però se riesco Io un po' qua Non Non La La Il segnale redstone C'è Rosso Però non arriva In qualche modo Ron robin Non c'è Nel senso Ehi Si rompo questo Che succede Devo rompere anche Ah Porca Ok Ho rotto anche quello Perfetto Faccio così Forse si è bugato Ok Ah io ho attivato Però non Non arriva qui Attivo il signal Quindi boh Dovrebbe funzionare Con il segnale Ma Non lo so Non funziona tanto bene Vedremo un po' perché Di questo problema Sicuramente Però Lo scopriamo E ragazzi Lo scopriamo tranquillamente Allora ci vediamo presto Una nuova puntata Della list Prestissimo Tipo domani Alle ore 20 E boh Qui Qui un po' di line La sta facendo La useremo Nella prossima puntata Ragazzi Ci vediamo nel prossimo video La list è tutto Ciao ciao E al prossimo episodio Grazie a tutti